ciao ragazzi allora oggi vi farò vedere come evocare l'hender drago su minecraft della terra quindi nell'altro posto che non mi ricordo adesso vabbè comunque dovete prendere il come un blocco come vedete come un blocco lo dovete posizionare e scrivere questa cosa qui questa cosa qui non so se voi vedete io nel caso non faccio dire da vicino ascoltate cosa qui in pratica dovete copiarla e metterla poi quando avete fatto mettete questa striscia non so se vedete questa striscia di redstone e attivare la leva però lo dovete prendere e si attiverà il drago guardate eccolo qua poi potete evocare un pacco guarda quanti quanti ce ne stanno avete visto è una figata ciao scusate oppure se volete fare prima basta fare slash summon and il drago fate invia e se ne crea un altro eccolo qua